Abbandono dei rifiuti nel mirino dei controlli che nel 2022 nel territorio comunale sono stati oltre 35.000 effettuati dagli ispettori ambientali di Veritas. Sono state levate 2.291 contravvenzioni, 1.560 utenze domestiche e 731 utenze non domestiche come attività commerciali o pubblici esercizi. 161 delle sanzioni totali sono state combinate a utenti fuori comune. Il dato risulta in linea con le verifiche e le multe del 2021. 2.210 verifiche sono state effettuate attraverso le telecamere installate nel territorio e di conseguenza gli agenti della Polizia Municipale che monitorano materialmente le immagini hanno poi individuato e sanzionato alcune persone che avevano abbandonato rifiuti o materiali ingombranti. In particolare 314 multe sono state levate a Venezia, 175 nelle isole, 778 nel territorio della Municipalità di Mestre, Centro e Carpenedo, 615 a Marghera e a seguire Chirignago, Zellarino e Favaro. Sanzioni che partono da 167 euro più gli eventuali costi di ripristino ambientale, pulizia, trasporto e smaltimento di quanto abbandonato.